proseguiamo ragazzi con il prossimo luogo tenente e sarà autorità portuale perché vedete benissimo le casse non possiamo permetterci di farle cadere in mani sbagliate vedremo quanto resisteranno i nostri oppositori senza niente con cui sfamarsi se vogliono mangiare devono accettare la guida di savonarocco lasciatemi subito pulito come è possibile che in città qualcuno sostenga ancora la famiglia medici pensare che un tempo li consideravo i miei padroni e Ezio deve far qualcosa allora dobbiamo aspettare che quello venga fin qua e ci metto un pochino savonarola ci guiderà verso una nuova era l'uoglianza è di giustizia vuole spezzare le catene del nostro tormentoso passato e accettare la salvezza guarda guarda come bug boom a posto allora giù allora adesso tocca quello sull'angolo e poi andremo a fare quei due laggiù via un altro adesso tocca a questi due qui giù via potevo attaccare ma ho visto quello che con la coda dell'occhio era lì era di fratellanza di eguaglianza e di giustizia giù ma il bello è che non lo sentono neanche gridare fantastica sta cosa non lo sentono gridare comunque autorità portuale di giorno è bella adesso penso si possa attaccare yes 5 su 9 che cosa ho fatto volevi imporre la fede talvolta la gente deve sentirsi dire cosa pensare non è mai venuto nulla di buono benché il mio cuore sia turbato la mia mente è lucida requiescati in pace e correremo la piazza fermatelo e adesso tocca solo scappare è buona così non c'è nulla da fare oh bastardo tagliategli la via di fuga via 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 andatevene bastardi ma meglio che non mi c***o conosco sono con te non ci scappa a tutti i membri dell'arte della seta nessuno dei miei clandini farà gli grezzi dell'ultimo carico del mercante non è un carro di fieno cazzo boom fine venitemi a cercare adesso forza forza venitemi a cercare 2000 fiorins e 5 ragazzi su 9 uccisi grazie grazie